Un aereo militare russo Unantonova N-26 si è schiantato questo martedì in fase di atterraggio a 500 metri dalla base siriana di Meimin nel nord-ovest della Siria, a dare l'annuncio il Ministero della Difesa russo, secondo il quale non ci sono sopravvissuti, 32 vittime, 26 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Secondo il Ministero l'aereo non è stato abbattuto, ma è precipitato a causa di un non meglio precisato guasto tecnico.